Di Giovanni Minoli, il faccia a faccia Matteo Salvini, 40 anni, milanese, convivente con due figli, giornalista, parlamentare ed europarlamentare laureando in storia dopo 16 anni interrompe gli studi perché dice arriverà prima la padagna libera della mia laurea nella Lega Nord dal 90 lavora come cronista al giornale e dice un'esperienza affascinante capolista nel Parlamento della Padagna della corrente dei comunisti padani ottiene cinque seggi dal 15 dicembre del 2013 dopo Bossi e Maroni è il terzo segretario federale della Lega Nord Allora, onorevole Salvini, da segretario nazionale oggi si sente ancora un po' comunista padano? Sì, rivoluzionario, non moderato, non sono assolutamente moderato il tema dell'ambiente è un tema su cui mi sono sempre battuto e sempre mi batterò Senta, intanto però, da segretario adesso deve affrontare il problema di Cota che è in Piemonte è stato rinviato a giudizio per peculato la Presidente Bresso invece è stata archiviata sono due modi diversi di gestire il potere? Sono due modi diversi di fare pseudo giustizia e magistratura Cioè, si dimetterà Cota oppure no? Spero di no perché ha lavorato bene e spero che possa continuare a lavorare bene Ma lei la fiducia della magistratura torinese che indaga ce l'ha oppure no? No Non ha fiducia nella magistratura? No, no Quindi è un complotto? No, no, però sono strabici Cioè? Vedono molto bene da una parte e sono molto distratti dall'altra Senta, intanto tra la Padania, il vostro giornale e il Ministro Chienge volano gli stracci, lo sanno tutti Lei pensa davvero che la Padania ha il diritto di pubblicare l'agenda del Ministro giorno per giorno? Assolutamente sì e di tutti i Ministri oggi pubblichiamo quelle della Cancellieri, di Zanonato perché sono uomini pubblici che fanno atti pubblici con stipendi pubblici di Berlusconi abbiamo letto di tutto e di più della vita pubblica e privata non si vede perché di altri Ministri non si possa fare altrettanto Senta, Renzi ieri ha invitato i militanti del PD a fare da scorta la Chienge Prevediamo uno sconto tra militanti della Lega e quelli del PD? Assolutamente no, in vent'anni mai un solo episodio di violenza è riconducibile a un militante della Lega quindi la Chienge non ha bisogno di scorta Quindi lei non ha paura che violenza chiami violenza? No, noi ne contestiamo le idee, però tenendo giù le mani come da vent'anni a questa parte Senta, comunque sulla lotta contro l'abolizione della Bossifini siete rimasti soli Avete occupato il Senato adesso, perché per fare cosa? Cosa vuol dire occupare il Senato? Vuol dire che tutta Europa sta andando verso un restringimento della possibilità di immigrare o di invadere se l'Italia va in senso contrario da sola Ma perché il Senato? Ne parliamo poi dell'immigrazione Perché il Senato sta provando una porcheria che si chiama svuota carcere Rilascio immaginare agli ascoltatori che cosa significa Ecco, ma è occupando il Senato ad Inter per tutta la vita? Abbiamo rinviato per quattro giorni l'approvazione di quello che è un insulto alle vittime dei furti Senta, vabbè, tutto insieme Ma si aspettava, non è detto che i furti rifacciano solo loro, le fanno un po' tutti No, 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 però escondi galera bianchi o neri E per l'uscita di galera è demenziale sia che siano bianchi sia che siano neri Ma si aspettava il volta faccio delle 5 stelle su questo tema? No, mi ha stupito e mi ha deluso Perché in campagna elettorale Grillo diceva stop all'immigrazione incontrollata E invece la rete lo ha smentito Ecco, a proposito della rete, sul tema dell'immigrazione Grillo sembra aver perso il contatto col suo popolo della rete Può darsi solo in questo caso Però lo ha smentito E non è che quel popolo è diverso da quello che si pretende di fare quando lo si vuole guidare? Sicuramente sì La democrazia e la partecipazione è sempre al benvenuto Anch'io lo faccio quotidianamente su Facebook e su Twitter Però probabilmente Grillo ha idee che vengono da destra Ma ha un popolo e ha degli eletti che sono al 90% di sinistra Ma è solo un errore di percorso? O secondo lei è iniziato anche per Grillo una parabola discendente? Temo che sia la seconda Perché col vaffancuro i voti li prendi per una volta Non per due volte, non per tre volte Questo vale per tutti Vale per tutti e l'abbiamo pagata anche noi Ecco, lei è un politico di professione, onorevole Salvini È un bene essere politico di professione Io adoro la politica Se domani mi passasse la voglia e non mi rieleggessero Torno a fare il mio lavoro che è quello di giornalista Ecco, ma per fare politica per lei cosa significa? Una passione che ha radici dove? A radici da quando avevo 16 anni uscivo di notte con la bicicletta A attaccare manifesti con la colla sporcandomi i vestiti Quindi è una passione, non una carriera? Assolutamente no Chi vive solo di politica e non ha nulla da fare al di là della politica È ricattabile Quando uno è ricattabile è finito Senta, lei è un euro parlamentare contro questa Europa E contro questo euro Cioè un euro scettico Mi dice in due parole cosa vuol dire? Contro questa Europa? Che credo in un'altra Europa Che non è fondata sullo spread Sul rating Sulla banca Sui tetti del 3% Sui vincoli di Lisbona Ma è fondata sul lavoro e sull'identità E quindi voglio un'altra Europa Non sono contro l'Europa Ma voglio un'altra Europa Ecco, ma perché allora non si dimette? Visto che intanto è in questo È la battaglia da dove la fai? È la battaglia per un'altra Europa Se non la fai in Europa Cioè secondo lei nell'Europarlamento si fa la battaglia per un'altra Europa? Assolutamente sì E conto che a maggio arriveranno dei pullman di eletti Che non contro l'Europa La Le Pen non è contro l'Europa Ma dice prima la Francia Senta Nell'Europarlamento Lei che battaglia ha fatto fino ad oggi di cui si sente fiero? Una di cui si è parlato pochissimo però per la celiachia Non fa i titoli dei giornali Però una delle direttive demenziali Rischia di mettere a repentaglio la salute di milioni di malati di celiachia Perché mette i loro alimenti sul livello di quelli dei vegetariani Che ne so Degli alimenti normali Ha vinto Gli alimenti a metà A metà perché abbiamo limitato i danni Anche se l'Europa nel nome del libero mercato Appunto mette a rischio la salute di tanta gente Non so quanti celiaci ci siano all'ascolto Però sappiano che con loro la loro associazione La battaglia l'abbiamo fatta e la faremo Senta cosa dice di lei all'Europarlamento Un suo collega belga di sinistra Mark Tarabella Collega Salvini È una vergogna sentirvi in aula Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel Jürgen Kreutzmann A.D. Rull Malcolm Harbour Dennis De Jong Tutti i shadow relatore come lei Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione Allora è facile dire che abbiamo fatto aria No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende Dei lavoratori Degli appalti pubblici sani Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fanullone in questo Parlamento È solo in tv È mai in aula Mai in riunione per lavorare È una vergogna Sei un fanullone in questo Parlamento Lo dico io Vabbè adesso è in radio Non in tv È colpa sua Che sono palle Fortunatamente i dati di presenza sono pubblici Quindi 91% di attivismo parlamentare 80% di presenza delle votazioni 250 interventi, interrogazioni, documenti Questo è incazzato Perché ho detto che la direttiva su cui ha lavorato per un anno e mezzo È una porcheria che complicherà la vita agli artigiani e agli imprenditori Se ne faccio una ragione Ha lavorato per un anno e mezzo su una porcheria Però io a un ordine vero dico che noi abbiamo scoperto che è vero che la produttività di Salvini è del 91% Come dice lei 90% Non importa La produttività di Tarabella nello stesso sito che dà dati ufficiali è del 738,3% Quindi diciamo un po' più alta A me basta essere vicino al 100% Però se uno lavora un anno e mezzo per produrre una direttiva sugli appalti Che incasinerà? E qua siamo sulla radio di Confindustria Dove imprenditori e artigiani Ragazzi Questa direttiva che arriva da Bruxelles Incasinerà la vostra vita Nuovi moduli, nuova burocrazia, nuove ruote di palla Stiamo parlando dei dati che ha dato Lei si posiziona al 628esimo posto Ha una percentuale di partecipazione del 76,97% Tarabella che lo critica Ce l'ha del 93% e si posiziona al 110% Quindi diciamo qualche problema Precisazione Però questi sono i dati dati ufficiali Quando non ci sei non ti pagano Ok, diciamo che non ruba i soldi in Europa Quando non ci sei non ti pagano Però devo dire che l'euro parlamentare italiana più virtuosa in assoluto del Parlamento europeo è Mara Bizotto della Lega Nord Hai visto? Quindi lei va poco Non la pagano ma insomma Ma è poco, l'80% Ha capito no? No dico 77% di presenze Sì A casa mia 628esimo posto in classifica Vabbè si può migliorare Comunque su matteosalvini.eu Faccio proprio Vista al sito Ci sono tutte le mie produzioni Un fact checking Vero Giusto Fatto in diretta Senta Quanto guadagna come euro parlamentare? 6200 euro al mese E poi in base alle presenze Alle partecipazioni Cosa che secondo me è giusto Dico lì poco No poco No Dico le partecipazioni Visto che insomma Ancora Questa è opinabile Allora Si ricandiderà in Europa lei? Penso di sì perché la battaglia contro l'euro Soprattutto più che sull'Europa contro l'euro che non è l'Europa L'euro che è una moneta criminale Ha bisogno di coraggio e di energia Quindi la faccio molto volentieri anche se ci esporremo ad attacchi di ogni genere Molti dicono che è criminale attaccare l'euro Quindi diciamo sarà una battaglia fra persone che si accusano di essere criminali Però 12 anni di cura euro ci hanno portato in una situazione economica Che lascio giudicare agli ascoltatori E poi la faccio È solo colpa dell'euro? Non è solo colpa dell'euro È colpa anche delle politiche interne degli stati nazionali Anche perché la congiuntura mondiale mi pare che sia Però l'euro è come correre i 100 metri con gli scarponi da sci Senta lei ha incontrato Maria Le Pen L'ha detto prima Cosa avete deciso di fare insieme contro l'Europa? Contro questa Europa? Per Io dico per Per un'altra Europa Ma rivedere tutti i trattati Ad esempio rivedere tutti i vincoli sull'agricoltura Sul commercio Sul turismo Vincoli che stanno strozzando le nostre imprese Ma la Francia e l'Italia non hanno gli stessi interessi sull'agricoltura? Non credo No, ormai sì Perché l'ultima politica agricola comune Che hanno votato a Strasburgo Porta i soldi tutti a est No, no Ci rimettiamo come italiani Ci rimettiamo come francesi E quindi l'Europa come la vede lei? Come dovrebbe essere? In due parole Fondata sul lavoro Non sulle direttive Sul lavoro I camionisti Gli infermieri I bagnini Cioè politica Il ritorno dalla politica Assolutamente Scelte Non il 3% Il tetto del 3% è un tetto da cretini Beh è un modello tendenziale È diventato un vincolo Perché ci sono i burocrati Che lo interpretano in modo vincolato Ci portano nel fosso Ci portano nel fosso Adesso La Lega comunque Lei ha un'impresa abbastanza disperata Minimi storici È colpa di Bossi? No No È colpa di tutti È colpa di tutti Quando si perde Merito di tutti Quando si vince Va bene Bossi ha creato tutto Io non sarei qua con lei Quello è sicuro Se non fosse partito Bossi Senta molti pensano però Che Bossi Ha cominciato a perdere Come dicevamo prima Di Grillo Ha cominciato a perdere Quando non ha capito Che i 105 Quelle celebrazioni Per i 150 anni Dell'Unità d'Italia In realtà erano sentiti E molto Anche al nord È vero Che lì è un po' Come l'andate al mare Di Craxi No Quella è forma A noi viene rimproverato Che non siamo riusciti A portare a casa Il federalismo Per 15 anni È un rimprovero giusto Dovevamo essere più efficaci Sono stati più furbi di noi Dove ha cominciato Allora Dove ha cominciato A sbagliare Bossi Quando Quando a Roma Sono stati più bravi di noi E quando ci hanno fregato Il federalismo Che era portata di mano Però io insisto Ho seguito Il Presidente Napolitano È stato un grande successo Al nord E voi Invece la Lega Non sapeva come fare Adesso La metà dei comuni veneti Vogliono un referendum Per l'indipendenza Vabbè E io sto parlando Di quel momento Cambia sempre In fretta l'aria Senti Il rapporto con Berlusconi È stato vitale O mortale Per la Lega Nessuno dei due È stato un rapporto Di interesse Che alla luce dei fatti Ci ha pautato meno Di quanto avremmo voluto È continuo o no? Lo devo incontrare Quindi glielo so dire Dopo l'incontro No mi dica adesso Per il momento Per il momento Mi interessa la Lega Mi interessa il Nord Mi interessa Andiamo da soli Siamo da soli Sembra un democristiano No guardi E allora Mi accusi di tutto Allora 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 Con Berlusconi Sì o no? No No Oh Che cosa resta Di Bossi Nella Lega di Salvini? La passione La fatica La piazza E che cosa E che cosa vorrebbe essere sicuro E quindi non mi interessa Per esempio Sulla sanità Sul volontariato Sui genitori separati Che cosa Voi anche eravate L'ha detto un po' prima Avevate promesso La Devolution Insieme alla macro regione del nord Dovevano lasciare il segno Queste due parole chiave I soldi Dove sono finiti Siamo penali però No no Vabbè Però Dove è finita Secondo me Sono attuali Sono attuali Ci arriviamo Secondo me O l'Italia riconosce le peculiarità E soprattutto I quattrini A chi li gestisce meglio I campanili Sono sempre stati Da forza d'Italia Da sempre Si è sempre saputo Non è che bisogna fare Un partito per i campanili Sì assolutamente Perché la Lombardia Ogni anno Non i leghisti I lombardi ogni anno Pagano allo Stato 50 miliardi di euro in più Rispetto a quello che torna indietro E non è possibile farlo per 60 anni Senta Fino a quanto Basta dice Basta così Riequilibriamo Vabbè Ma le piccole e medie imprese Che appunto Lei in qualche modo Vuole rappresentare Dove pensa che trovino La mano d'opera Flessibile Che serve per sopravvivere E per avanzare Quando la congiuntura Lo consente Se non tra gli immigrati No Ci sono 4 milioni Di italiani disoccupati Prima gli italiani Per il lavoro Sì La trovano fra gli immigrati Grazie a te Grazie a te